Buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con Topic, è un Topic particolare oggi perché dovremo parlare di sport, dovremo parlare di un'impresa, la battaglia, l'obiettivo che fino a qualche tempo fa sembrava un miracolo, il fatto che il Catania possa lottare per vincere la sua prima Coppa Italia nella storia, nella storia dei rosso-azzurri, è stata sporcata, questo momento che doveva calamitare l'attenzione di oltre 20.000 persone al Massimino è stata sporcata, è stata praticamente aggerata, annullata, è diventata quasi una formalità, è diventata quasi qualche cosa che la gente aspetta come, vabbè, abbiamo la Coppa Italia e questa colpa chi se la deve caricare sulle spalle? L'intera città? No, l'intera città non è colpevole per colpa di una sparuta rappresentanza di pseudotifosi, di coloro che dicono di essere tifosi del Catania, no, non impersonano l'intera cittadinanza, io questa considerazione amara la voglio fare in apertura perché vedete gli ecchi che arrivano dal Veneto, da Padova, sono così brutti da digerire, così antipatici da sopportare che meritano un approfondimento. Questo canale, ovviamente questa trasmissione, questo approfondimento arriva anche nel Veneto e spero arrivi anche a Padova e che qualche amministratore padovano possa pensare di evitare di generalizzare. Catania non è quei 50, 60, 70 soggetti che hanno deciso di andare a Padova e fare quello che ormai le cronache hanno raccontato, no, Catania è un'altra cosa e quindi quando qualcuno di questi soggetti, questi soloni che si trovano a Padova dicono ah, oltre al danno la beffa siamo noi i penalizzati, ma come fate ad affermare una cosa del genere? Voi che appartenete a una città importante, una città che è il fiore all'occhiello del Veneto, come fate a sostenere una cosa del genere? È una vera e propria bestemmia, non è tollerabile pensare di mortificare un'intera città, non è così. E allora dico a voi, noi abbiamo già perso la faccia, ci stiamo leccando le ferite per colpa di questi soggetti che hanno fatto questi danni, ma non potete infierire ulteriormente. Noi siamo consapevoli che dobbiamo curare i rapporti di questi soggetti che sono soggetti che purtroppo non so come potranno essere curati da una malattia profonda che hanno in sé, quello della prevaricazione sociale. Vogliamo evitare questo, però a testa alta non accettiamo che qualcuno ci dia delle elezioni. Ecco, questo no. E allora Catania ha deciso di riempire la Tribuna B con 1500 giovani per un giorno che potrebbe rappresentare la storia di questa maglia, di questa città, anche se sarà molto difficile perché quello che hanno fatto vedere i calciatori negli ultimi tempi non ci fanno ben sperare sull'epilogo positivo. Però ecco, siamo fiduciosi che prevalga il buonsenso e il calcio. E allora dico ai signori che ci seguono da Padova, rispettate la collettività catanese che non è quella che qualcuno vi vuole raccontare male. Noi siamo altra cosa. Siamo ospitali e rispettiamo tutti coloro che raggiungono le nostre terre. Quindi questo è fondamentale sottolinearlo e mi sono voluto un po' inerpicare in questo contesto per chiarire bene quella che è la nostra posizione. Allora, voi siete favoriti dal fatto che al massimino non ci saranno i 20.000 spettatori sugli spalti. Siete favoriti dal fatto che avete un gol in più. Avete un risultato che a Padova è stato positivo per voi. E allora, non sporcate la bellezza del calcio. Non continuate ad infierire. La città di Catania vuole essere rispettata. Questo è per dare questo ulteriore input. E allora dicevamo, ritornando invece al campo, alla formazione che dovrebbe questa sera, tra poche ore, scendere in campo in questo massimino surreale. Con tanti tifosi probabilmente che ascolteranno da fuori, dallo stadio, perché, ripeto, è un momento storico per la città di Catania, perché non ha mai raggiunto una finale di Coppa Italia. Ovviamente è una Coppa Italia di Serie C, evidenziamolo, ma è sempre un trofeo a cui il Catania vuole tentare di arrivare. Noi, chiaramente, da Catanesi ce lo auguriamo. E allora, Zeoli, in discussione per l'ultima partita di campionato. Abbiamo perso malamente in casa contro il Giuliano. Una partita assurda, incredibile. Subire tre golli in casa, veramente dell'allucinante, per una squadra costruita come il Catania. Attenzione, in corso, perché all'inizio del campionato il Catania era da cancellare. giocatori mediocri, scarsi, non all'altezza del compito. La società ha fatto una rivoluzione. È chiaro che la rivoluzione poi ha portato a pescare tanta gente che non è ancora all'altezza del Catania. Non l'hanno dimostrato di essere all'altezza di vestire la casacca rosso-azzurra. Allora, noi ci auguriamo che ora questo possa accadere. I convocati, li sapete, la formazione potremmo anche provare ad abbozzarla, ma non è che ci sono particolari novità rispetto a quello che abbiamo visto con il Giuliano. Attenzione, questo è un appuntamento che io ritengo importante senza pensare ad altro. Perché qualche d'uno ha pensato di dire, ma noi dobbiamo pensare alla Virtus Francavilla la prossima è che noi siamo il Catania. Abbiamo una squadra che dovrebbe fare assolutamente la differenza in questo campionato. Deve pensare alla Coppa Italia ora, giocare al massimo delle proprie possibilità per galare questo sogno, la collettività rosso-azzurra. Poi si penserà alla Virtus Francavilla. Francamente, certo, il Catania dovrà forse andare dallo psicologo, avere bisogno di qualcuno che gli faccia capire il valore di una maglia che sta indossando. Questo sicuramente sarà. Però, ecco, per darvi qualche altra indicazione, dopo queste considerazioni che ritengo siano doverose, anche perché io sono uno di quelli che ha condannato il fatto che la società non ha fatto ricorso, ha voluto dare un segno a chi? A chi non imparerà mai? Il segno praticamente l'ha dato la tifoseria per bene, che non è potuta andare allo stadio. E questo ha innescato in quei signori che sono a Padova il fatto che, no, doveva essere chiusa tutta Catania, ritornando al discorso di partenza. Va bene. Le formazioni. Il Catania dovrebbe schierarsi con 3-4-1-2, con Furlan, Curado, Monaco, Contec, Boa, Zamarini, Quaini, Castellini, Peralta, Cianci e Di Carmine. Quindi vedete bene che ci sono poche novità nel contesto. Però la cosa che voglio sottolineare è le mancanze del Catania. Attenzione, non dimentichiamolo, al Catania mancano Welbeck squalificato, Sturaro, Teio, Betters e Silvestri indisponibili per vari infortuni. E allora, che cosa si può chiedere da questa partita alla Catania di tirare fuori gli attributi? Ci sono 1.500 bambini allo stadio? Ebbene, voi dovete far sì che questi bambini continuino ad andare allo stadio, apprezzare e amare i colori di questa città. Siamo arrivati alla fine di questo spazio di approfondimento. Come sempre, vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo le nostre coordinate per raggiungerci. Redazione Chiocciola, spazionotizia.it e il nostro numero telefonico 379-224-2420. Grazie per avermi seguito. Arrivederci. Grazie.